Idee per lo sport, ce ne potrebbero essere tante, tantissime, so che ce ne sono state tante, la mia forse è anche tra le più banali, perché essendo io un'atleta paralimpica non posso che pensare a due parole, integrazione e accessibilità. Integrazione mi piacerebbe vedere nelle gare della FIDAL, qualche batteria in più di paralimpici, questo può essere non ai fini dei risultati ma sicuramente un grande stimolo per i ragazzi disabili e soprattutto accessibilità, accessibilità perché oggi lo sport paralimpico per tanti disabili è un lusso, poiché gli ausili costano tanto e lo Stato non li copre, quindi mi piacerebbe che le società o comunque i comitati potessero investire qualcosina in più per aiutare i ragazzi disabili ad avvicinarsi allo sport, quindi non solo promozione ma anche aiuto concreto e accessibilità anche legato alle strutture, perché comunque in Italia in generale gli impianti sportivi non sono particolarmente accessibili, anzi quasi mai, già sono pochi, quei pochi che ci sono non sono particolarmente accessibili, pertanto se uno vuole fare sport e già incontra una barriera architettonica, inevitabilmente rischia di fare come il gambero e andare indietro anziché andare avanti, quindi se vogliamo stimolare i ragazzi a fare sport dobbiamo anche dargli la possibilità di farlo, per cui accessibilità e integrazione, mi piacerebbe che gli addetti ai lavori iniziassero a ragionare un po' di più su questi due aspetti.